Ripetiamo il corso di apicultura qui all'Istituto Zootecnico per la Sicilia, svolto in tre giorni qua all'Istituto e un giorno trascorso fuori esattamente in un apiario di Giacalone con circa 20 ragazzi. Ci sono state persone in gamba in grado di spiegarci nel migliore dei modi tutto ciò che riguarda appunto questo fantastico mondo, quindi è stata realmente una bella idea. Ci è piaciuto tantissimo partecipare, farne parte. Le api sono fondamentali, possiamo utilizzare molte cose appunto create dalle api, dunque è molto interessante questo mondo. Io già dall'inizio tutto il mio impegno è stato finalizzato a diffondere l'informazione e la formazione, anche per chi non si è mai avvicinato alle api. Quello che possiamo fare noi attraverso i corsi, la formazione, continuare ad affinare il nostro sguardo e la capacità di interpretare il mondo delle api che appunto ha tanto da insegnarci. Ho deciso di avvicinarmi a questo mondo, sinceramente è un mondo che ha molte sfaccettature. Oggi ho conosciuto, grazie al professore Andrea, un mondo che mi era sconosciuto quello del veleno. Io mi sono sempre occupato di miele, polline, altri prodotti, ma oggi ho conosciuto un mondo che sinceramente può aprire grandi vedute. Ci siamo concentrati di più sul veleno delle api che è abbastanza sconosciuto diciamo in un certo senso e oggi credo che abbiamo fatto un grandissimo passo avanti nella conoscenza, intanto nella sensibilizzazione e soprattutto diciamo dare degli input a dei giovani apicoltori. Quando si dice di fare delle scelte politiche in una direzione, questa è la direzione della salvaguardia dell'ambiente, della tutela del patrimonio naturalistico e non soltanto. Avvicinarsi a questo mondo affascinante che è quello degli insetti, quello delle api, è certamente un'occasione di crescita sul piano pedagogico, formativo e perché no professionale.